Salve ragazzi, oggi voglio parlare di un tema che è la verità sulla droga. Vedo che è molto ricercato su YouTube da parte di un certo NILOC. Allora vi voglio parlare della verità della droga, però io a differenza di NILOC la droga la suddivido in due branchie. Le droghe morali e le droghe immorali. Perché faccio questo? Perché io di droga non sottointendo la droga tradizionale, classica che si conosce dagli anni 60-70. L'LSD, marijuana, eroina, crack o quant'altro anche di riscoperto di nuovo a livello di droghe a base di psicofarmaci o benzodiazepine o forti analgesici come i cavalli tipo chetamina, queste cose qua. Queste sono le droghe classiche da sballo, però ci sono anche le droghe, come in tante altre cose, che sono invece quelle veicolate dallo Stato stesso, pubblicizzate in televisione logicamente, che è il tabacco e l'alcol. Se voi andate ad analizzare le statistiche, ci sono più morti di tumore ai polmoni per tabacco, più morti di cometilico da alcol, che quelli delle droghe tradizionali, come comunemente vengono classificate droghe, che è quello diciamo del eroinomane, che molto spesso se muore, se vedete a guardare, muore per via che lui usa un cocktail di psicofarmaci e metadone insieme alle eroine, quindi muore per quel motivo lì, non per l'eroina stessa tagliata male, perché allora il numero di morti ancora diminuisce di gran lunga rispetto ai 20.000 morti di alcol all'anno. E vi voglio dire poi, senza tutti i danni psicologici che porta il gioco, perché è una mania, si chiama gambling, è una malattia mentale, che si sta procurando in decine, centinaia di migliaia di persone, che stanno riempiendo i reparti di psichiatria, arrivando gente con più di 40 TSO, per via che si gioca tutti i soldi che ha nei grattevinci, nelle scommesse e quant'altro. Dato che voi sapete, anche nella vostra città proliferano sempre di più queste videoslotteri, queste slot machine dove butti i soldi nella speranza. Perché come mi hanno notato qualsiasi psicologo, si può dipendere da tutto. L'importante è maturare una dipendenza sana, cioè la voglia di fare jogging, la voglia di andare sui pattini, la voglia di fare una passata in montagna, essere dipendenti da un hobby che è più legato al mondo dello sport, o al mondo del passatempo come i scacchi, come il gioco delle carte, ma in maniera amichevole, non legato alla scommessa, alla vincita. Perché come voglio dire, si può dipendere da tutto, però cerchiamoci una dipendenza sana ragazzi, perché insida nell'uomo che comunque sia nella sua quotidianità, accumula delle sofferenze, accumula delle negazioni di ciò che vorrebbe essere e non può per via degli stereotipi sociali, che ti obbligano magari ad accettare un lavoro solo per lo stipendio, non perché ti piace. Tutte queste cose che voi magari non le focalizzate lì per lì, vi portano delle frustrazioni comunque a livello di inconscio. E quindi maturate le dipendenze, l'illusione di poter superare le difficoltà della vita attraverso quelle droghe morali che vi ho sopra elencato, alcol, tabacco e soprattutto il gioco che si sta sviluppando adesso, che è una malattia, si chiama gambling, e logicamente che vi danno l'illusione per un attimo di vivere un sogno, di poter realizzare quello che magari voi, nella vostra vita di tutti i giorni, non accettate. È uguale, per me voglio dire, forse lo vedrete forzato, ma non è, è uguale per lo rinomane. Cerca di fuggire dalla realtà, vivendo un sogno con lo sballo dell'eroina, del crack. Anche se adesso non va più di modo, a me il rinomane comunque si fa, va sempre più scemando logicamente. E logicamente chi fa quelle droghe illegali sta commercializzando altro che fanno ancora più danni a livello di sistema cerebrale e quant'altro. Però non si stanno sempre di più aumentando quelle delle droghe basate all'alcol, e basate con il gioco, basate con il tabacco, dove si creano molti più problemi strutturati alla personalità. Infatti se voi andate a vedere, i CERT, i cosiddetti classici CERT, Servizio di Tossicodipendenze, hanno cambiato il nome e si chiamano CERT, quindi dalla T è passata alla D, alle dipendenze. Proprio perché si hanno studiato che adesso ormai le nuove droghe sono queste dipendenze patrocinate dallo Stato. Proprio perché lo Stato anche lì per incrementare i propri ruogadagni ha cercato di accappararsi questa fetta di persone che comunque sia tendono, proprio per le cose che vi ho detto prima, per le frustrazioni giornaliere, a crearsi una dipendenza loro. E allora cosa dice lo Stato? Gli le legalizziamo perché non sono moralmente non accettate nella società. Poi ve lo faccio dire da voi, quello che è morale o immorale. Per me quello che è morale o immorale riguarda solo me stesso, non ha un insieme di individui che stabiliscono a priori quello che è giusto o non è giusto per una società. Quello che non è conforme o non è conforme per stare insieme agli altri. Per me bere o per ubriacarsi a sabato sera, logicamente, crea problemi. Perché queste persone, logicamente, si riportano a casa, poi possibilità di fare un incidente stradale che può gasare il morto, può andare in cometilico, può avere un ictus, può morire, logicamente, questa persona. Quindi non è tutta questa gran salute, voglio dire, l'alcolismo, anzi è una piaga che, come vi ho detto, porta più morti delle droghe tradizionali che si sono sviluppate negli anni 70 a oggi. Che comunque se sono in calo, proprio perché hanno preso piedi queste droghe dello Stato. Forse dico una parola grossa, però voglio dire, c'è il monopolio che ci prendono soldi sul tabacco, sul gioco e sull'alcol. Quindi sui superalcolici, non l'alcol tipo la birra, ma sui superalcolici c'è il monopolio dove ci paghi le tasse dello Stato. Allora vi voglio dire soltanto, ragazzi, attenzione, cerchiamo quindi di creare una dipendenza sana, ok? Ma ricercata nella socialità di gruppo, nei giochi in scatola, nello stare insieme con gli altri, nel condividere una partita a caccio valilla, nel condividere una passione per i francobolli, per la numismatica, per i scacchi, per il blackgammon, quant'altro, per la roller mania, queste cose, insomma. Per la passione di andare a funghi. Ricercate questo, questo che ci riporta ai valori sani, ok? Evitate di andare a comprare un gratta e vinci, perché poi crea la mania, la speranza, l'illusione che non vi porta a niente, se non a sempre di più essere di disperati, delle persone che stanno male con se stessi, per quanto voi ve la raccontate e non ve lo volete riconoscere. Però questo è un problema che c'è, ragazzi. Io vi pongo solo questo di quesito. Io abolirei più le droghe cosiddette moralmente accettate, che io le chiamo droghe, perché per me sono stereotipate psicologicamente con la stessa leve emotiva delle droghe tradizionali che non sono conforme allo stereotipo dell'individuo accettato nella società. Cioè quello che si fa da eroina fa un po' schifo, non ridisce, sai, la pera, la siringa che si inietta. Ci fa schifo. Però questo non lo so su quali canoni rientra, insomma, ecco. Se invece rientra nella normalità quello che utilizzare il gratta e vinci o le videoslotteri che riempie di gente con le maglie nei capelli che non hanno i soldi per pagarsi le bollette o per non comprarsi da mangiare. O addirittura per dare il latte alla figlia di due anni devono andare a chiedere i soldi alla Caritas per colpa del problema del marito. E poi sono problemi anche che vengono molto più oscurati nella società perché non vengono fatti vedere, non vengono messi visibili. Infatti se voi magari andate a ricercare queste notizie magari non le trovate in ogni giorno, in ogni giornale, ma è un problema, ok? L'unica cosa che ha fatto lo Stato è di scrivere quando fa la pubblicità della rotomatica giocare con cautela, ok? Mi fanno ridere, cioè mettono l'esca per far sì che si stimola il giocatore a buttare soldi sempre di più ogni giorno e poi si mette a giocare con cautela in piccoletto come con i farmaci, con i medicinali. Si consiglia l'uso dietro alla prescrizione medica e poi i farmaci li diamo go-go a tutti. Non lo so quanto l'aspirina ci porta bene anche questo. Ma comunque qui c'è un gioco più grande della nostra vita quotidiana. C'è milioni e milioni di euro che incassa di giorno in giorno lo Stato attraverso queste droghe patrocinate, moralmente accettate. Allora vi lascio a voi commentare e argomentare il discorso e ampliamo questo dibattito. Vi voglio attivi ragazzi perché veramente a me mi cascano le braccia e mi si spezza il cuore a vedere le famiglie disastrate da queste situazioni qua e lascio a voi pensare altro. Comunque io sono in una piantagione di marijuana perché la cannabis da quando esiste c'è a zero ancora morti annoverati per chi fa uso di cannabinoidi. Sarà qualcosa di sano forse, non lo so. Lascio a voi dirlo. Arrivederci. Grazie.